una vasta saccatura interessa il mediterraneo una bassa pressione interessa al sud italia domani è previsto una decisa rimonta anticiclonica dall'atlantico sulla penisola residua instabilità al sud con tendenza al miglioramento tempo stabile e soleggiato al centro nord in toscana martedì 27 marzo cielo inizialmente sereno poco nuvoloso aumento della nuvolosità sulle zone interne nel pomeriggio con possibilità di locali o brevi rovesci più probabili sui rilievi venti deboli occidentali o localmente moderati occidentali mari tra poco mossi e mossi con moto ondose in aumento nella seconda parte della giornata temperature pressoché stazionarie o in leggero aumento cielo sereno poco nuvoloso su tutta la provincia a lucche nella piana temperatura minima 5 massima 16 gradi a castelnove zone montane minima 1 massima 15 a viareggio sul litorale minima 8 massima 17 gradi